Salone che vai, Viziv che trovi. Con Andrea Placani, responsabile della comunicazione di Subaru Italia, vediamo quali concetti nuovi introduce questa Concept Tourer. Allora, Viziv, dove il nome in qualche modo significa visione per l'innovazione, vision for innovation, in qualche modo rappresenta quello che è il modo di pensare e soprattutto di realizzare un'auto da qui al futuro. Viziv è un po' il nome comune di tutti i nostri Concept, ai quali poi naturalmente viene attaccato ogni forma di prodotto che viene poi creato. Quindi abbiamo visto la Viziv 2, che era un po' l'anteprima di quello che poi è stata l'XV attuale. Abbiamo visto la Viziv Performance, che è poi quella che potrebbe essere in futuro l'STI. Oggi vediamo questa Viziv Tourer, questo Concept, che in qualche modo vuol far riflettere su quello che saranno i canoni di design del futuro. Canoni di design che però si possono rappresentare anche da due altre parole, che sono design per solid. Perché la vettura, al di là del fatto di avere un design molto particolare, dà anche l'impressione di una macchina molto solida. E la solidità è alla base anche di tutti i nostri nuovi prodotti, perché al di là di tutto, al di là delle performance, al di là dell'utilità della vettura, della versatilità e quant'altro, quello che viene ricercato negli altri prodotti per quanto riguarda Subaru è la solidità, ma soprattutto la sicurezza, che deriva anche dalla solidità della vettura stessa. Quindi la solidità che noi ritroviamo in tutta la sicurezza a 360 gradi dei nostri prodotti e che è un po' il punto cardine di tutto lo sviluppo dal foglio bianco fino alla realizzazione della macchina definitiva. Quindi tutto ruota attorno alla sicurezza e appunto anche questo nuovo prodotto vuole dare un messaggio per quello che sarà il futuro anche in questa direzione.